Ciao, eccomi qua! Oggi sono a Tirano, quest'anno seconda volta al Valtellina Mointrail. Fa un freddo cane, anche se la giornata è bellissima perché non c'è una piccola. Sono qua alla partenza, adesso lascio tutte le corse. Si parte questi 42 km fino a Londrio. La gara l'ha fatta anche l'anno scorso, è davvero molto bella, mi è piaciuta un sacco. Qua con le anime siamo tantissimi, più di 20 persone. Niente, dai, speriamo vada bene. Speriamo di farla meglio dell'anno scorso. In realtà oggi è molto bello, quindi non credo Speriamo divertiti. Anime in preparazione. Nessuno che vuole togliere più vini. Grazie a Lisù. Anima! 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 Allora abbiamo passato i 4 chilometri ma come ogni anno al terzo chilometro c'è questa strettoia che ha fatto perdere un quarto d'ora che si sta proprio fermi in coda. Io ho perso i compagni di Animatezza che mi sono caduti i guanti in partenza e sono rimasta indietro. Adesso vediamo se riesco a recuperarle. Grazie a tutti. Allora ho passato la metà di gara e ho passato i 21 chilometri. Non so per niente bene. Ho tanto male allo stomaco e tanta nausea. Non sto così male da ritirarmi ma non sto così bene da poter correre. Quindi vado avanti finché ce la faccio e quando non riesco più smetto. Allora ho passato i due minuti. Non so per niente bene. Non so per niente bene. No so per niente bene. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti